La Pentecoste Tommaso, questa figura così originale da diventare addirittura un modo comune di parlare, io sono come San Tommaso, se non vedo non credo, a parte quel momento lì, Tommaso ci dà la prima indicazione di come trovare il Signore. Di solito si passa in secondo ordine, invece è principale. Tommaso dice se io non vedo le sue piaghe e metto il dito dentro le piaghe e metto la mano nel suo costato, io non crederò. Tommaso dice una cosa fondamentale, la carta d'identità di Cristo sono le sue piaghe. E' il suo costato squarciato. Infatti quando lui farà l'esperienza delle piaghe, si butta i piedi e con una umiltà profonda fa il più bell'atto di fede di tutto il Nuovo Testamento, mio Signore e mio Dio. Siamo in controsenso praticamente. Il Dio trionfante che si rivela, il Dio che esce dalla tomba, che ha vinto la morte, che a un certo punto si presenta caratterizzato dalle piaghe, caratterizzato dalle cicatrici della crocifessione. Doveva presentarsi quel Dio dell'onnipotenza, il quale umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Dio sarebbe sempre stato Lui e il suo segno di riconoscimento saranno sempre state le piaghe, perché sono il segno del suo amore. Dove sono piaghe, si incontra Dio. Dove sono piaghe, si trova Dio. Non esiste la Chiesa senza piaghe. Non ne vistono fratelli che non siano piagati. E proprio Tommaso ci insegna per prima cosa che l'indicazione, la freccia sicura per poter incontrare il Signore è proprio la sofferenza e il dolore, perché è con quella che ci ha salvato dai nostri peccati. Buona continuazione della Pasqua.